In pillole, qual è il metodo migliore per applicare l'insegnamento delle guide alla vita? Commento. Un metodo è aiutare in pillole, poco alla volta, chi si avvicina all'ipotesi della reincarnazione e solo quando chi chiede aiuto lo scrive seriamente nella sua vita. Questo metodo va dal particolare all'universale e aiuta a sollevarsi sulle ali della coscienza.